Vi racconto in breve la mia storia, la mia vicenda, che inizia nel turno notturno fra il 7 e l'8 marzo del 2020. Durante il turno, verso l'una di notte, notiamo un esodo inusuale per il periodo e per l'orario, un esodo di lombardi, di milanesi che venivano, che uscivano al casello di Livorno, al casello dell'autostrada A12, a Livorno, dove io lavoro, per aggiungere probabilmente le loro seconde case oppure amici o parenti che li ospitavano. Faccio presente che abbiamo lavorato in condizioni precarie, non avevamo dispositivi di sicurezza, quindi senza guanti, senza mascherina, abbiamo maneggiato soldi contanti, carte di credito. Siamo arrivati, perché ero in compagnia di un altro collega che era su in ufficio, siamo arrivati alla fine del turno, alle 6 la mattina, sono andato a casa, avevo due giorni di riposo, al terzo giorno mi si presenta una febbre altissima, 40-41 di febbre, chiamo il medico di famiglia, mi prescrive degli antibiotici che non hanno nessun effetto, devo dire. Dopo 3-4 giorni il medico mi aumenta la dose, ma anche qui nessun effetto. Dopo 10 giorni, non ce la facevo più, chiedo al dottore di mandarmi al pronto soccorso. Non è stato facile comunque andare al pronto soccorso. Arrivo al pronto soccorso prelevato a casa da un'ambulanza attrezzata Covid, lì mi viene diagnosticato purtroppo una pormonite bilaterale da Covid. E qui inizia l'incubo. Vengo ricoverato nel reparto di pneumologia a Pisa, dove già stavo male io, non vi potete rendere conto cosa ho visto in quel reparto, persone che stavano veramente male. Dopo 10 giorni passati in ospedale, vengo rimandato a casa con il tampone negativo e qui inizia la seconda parte della vicenda, ancora più triste forse, ancora più brutta, perché vi potete immaginare dopo 10 giorni di febbre a 40 a casa e dopo 10 giorni di ospedale, ritorno a casa e ero solo. Nessuno poteva venire a darmi una mano, i figli li ho rivisti dopo due mesi e mezzo, i genitori anziani lo stesso. Lontano dalla famiglia, lontano da tutti, dovevo arrangiarmi da solo, come ho fatto, ma è stata durissima, perché non stavo solo male fisicamente, ma anche mentalmente. Abbiamo poi successivamente con l'ufficio personale della società autostrade inoltrato la richiesta di infortunio all'Inail, che in prima istanza ce l'ha rigettato. Poi tramite l'Inca abbiamo fatto ricorso e oggi, a distanza di un anno, devo dire, grazie all'Inca, grazie alle operatrici, alla dottoressa, all'operatrice dell'Inca, che hanno messo in campo tutte le loro conoscenze per questo caso, abbiamo finalmente ottenuto giustizia, mi è stato riconosciuto l'infortunio sul lavoro. Faccio un appello a tutti i lavoratori e alle lavoratrici, non sentitevi mai soli, perché il sindacato, il patronato c'è e è sempre pronto per tutelare i nostri diritti. Grazie.